Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale! Io sono Anita e lei è Roberta e come sempre questo è Curiosando a Lanzarote! Oggi in compagnia di Roberta e Bart ci siamo dedicate una bella passeggiata in relax qui a Porto Calero! Come diciamo sempre ragazzi nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri video! Bene noi siamo pronte per la passeggiata ma come sempre prima devo lanciare la nostra sigla! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!